Sessore, un bilancio dell'Enoteca regionale, un bilancio dove è importante un anno e mezzo di attività dove la Regione Lombardia ha speso deviasse energie? Sì, però la Regione Lombardia ha finito di spendere energie nel senso che ha messo a disposizione di questo territorio una struttura che ha tutte le caratteristiche per poter cominciare a funzionare. Perché veniamo da un anno che è stato un anno di fase iniziale, cosiddetta start-up, quindi è difficile giudicare rispetto al passato, ho trovato molto più interessante oggi sentire e raccontare quella che è la programmazione del futuro prossimo. Quindi c'è molta vivacità, tante iniziative e la voglia di far diventare questo angolo di territorio Lombardo il punto di riferimento della promozione vitivinico alla Lombarda e questo io trovo che sia molto positivo. Un'altra domanda, insomma, tante volte la Regione è stata criticata della gestione delle immobili di sua proprietà che rappresentano un po' un fulcro dell'attività di promozione, cosa vuole rispondere? Che noi abbiamo cambiato completamente approccio, io credo che la Regione non possa mettersi a fare il gestore né di immobili né di strutture pubbliche, la Regione ha la proprietà di immobili ma li deve rendere disponibili ai privati per fare in modo che questi vengano sfruttati e utilizzati al meglio. Nel rispetto della cosa pubblica, mantenendo la funzione pubblica e la funzione originaria quando si tratta di lasciate, come è il caso di Ricca Gioia. Ma noi, come enti locali, abbiamo dimostrato che si rischia di fallire rispetto a un mondo che è cambiato. Una volta c'era risorse per tutto e passava sotto l'uscio l'idea che non ci fosse convenienza a gestire in un modo piuttosto che nell'altro. Noi abbiamo portato una ventata di moralizzazione a questo punto di vista, facendo delle scelte che all'inizio potevano sembrare un tantino impopolari, ma che la gente sta cominciando a capire.